Il progetto nasce dall'esigenza di Conad Nord-Ovest di ampliare il reparto freschi del magazzino di Montopoli-Valdarno che è il più grande magazzino in cui opera. Abbiamo cominciato questo percorso mettendo al centro del progetto l'efficientamento dei processi di handling di uno dei settori più sfidanti che è il settore del reparto ortofrutta, questo per la velocità dei processi. Con System Logistics abbiamo condiviso tutte le necessità specifiche del settore in un grande lavoro di confronto quotidiano che ha portato all'implementazione del primo impianto, completamente automatizzato, del peaking per prodotto. SortMate è un sistema automatico di ventilazione per crati designed e manufatturato da System Logistics. Il principale è la possibilità di ritrovare crati direttamente da l'efficiente pallet e depositare i pallet della destinazione pallet, UDS, senza bisogno di un'intermediate buffer. Le pallet con ritornable crati unloaded in l'inverno zone near i l'efficienti docci undergo necessario verificare e inspeccionare. Le pallet sono poi inspeccionato in l'efficiente, che consistono di tre entri lanes, each equipato con una modulazione con un'efficiente bar per l'efficiente congruente controllo del pallet e una barcode reader per l'UDS recognition. Il pallet è accumulato sulla backbone, che consistono di 32 motorizzate rollers e trasportate in l'efficiente da l'inverno zone near l'automatico ventilazione area. Incomi prodotti sono senti in l'automatico ventilazione area in una just-in-time manner, per assemblare pallets per 240 stores with a capacity of 43,000 crates per day. The automatic ventilation area mainly consists of four slides 60 meters long and three robots per slide, each equipped with a vision system. In total, there are 12 robots for the automatic ventilation of returnable crates and 24 grippers capable of handling crates of various sizes. An AGV light system consisting of 24 machines is responsible for moving the load unit during the input and the prepared shipping units during the ventilation process. The system is capable of automatically preparing both pallets and rolls. The complete pallets are brought by the AGVs to align for automatic strapping and labeling near the exit area. The rolls are released in the exchange area and delivered to the operators for closure if it is finished or for potential topping. The solution is simple and consists of few components with high reliability, redundancy and overall requires minimal maintenance. The project is a table of a much larger puzzle that consists of the complete renovation of the entire supply chain of Cona Nord-Ovest. Certainly, the inauguration of the first automated plant for the Ortofrut in Italy is a result of extraordinary importance, which enables us to reprogramming all our distributive centers in the industry. The impact of this innovative solution could be notable in the field of the GDO, because it could induce other companies to begin to invest in technology all of the avant-garde, to automatize the operations of the warehouse. The distribution center has become the point of reference for the sector, thinking about the visits. We have chosen to collaborate with System Logistics because in this we have found a company with great flexibility to receive our needs of business. Innovation is a common value both for Cona Nord-Ovest and for System Logistics.